Per essere un ingegnero di servizio è più che un lavoro, è un tempo di vita. Sono un meccanico senior, lavorando per Varzila Brasil. Nel momento sono in un centro di vendita in Vasa per migliorare il mio capo di varzila 31. Ho lavorato al mondo un'avviso di 250 giorni in un anno, su un po' diversa strada e strada di potenza, con persone che hanno una cultura diversa e un stile. Il viaggio in un po' diversi paesi abbraccia la diversità del nostro mondo e la forma di rispettare le persone e il posto dove sei. Il servizio di Varzila è sempre vicino al cliente, grazie alla presenza del mondo. I clienti possono rilassare le attività che i esperti di servizio possono fare, come per esempio l'overrollamento, il risultato, il risultato di on-site e il riparo di workshop e la macchina in situ. Il servizio di Varzila ha diverse capacità. Il servizio di servizio di servizio di servizio è completo e servizio di servizio di servizio che è completamente gestito da Varzila. La sicurezza per Varzila è molto importante e è continuamente sotto sviluppo. Nel campo, prima di startare il servizio, dobbiamo controllare e avvalorare le condizioni di sito usando la analisi di servizio di servizio di servizio non è sempre semplice per me e per la mia famiglia, ma sono estremamente fortunato di avere una famiglia forte come Eliana a casa di gestire i nostri due figli, Alino e Timoteo. Amo la autonomia di servizio che ho nel campo e essere nella prima linea in contatto diretto con il cliente. Durante la mia carriera come servizio di servizio, ho ricevuto qualche feedback positiva dal cliente, che mi rende orgoglioso del mio lavoro in Varzila e mi dono la motivazione per migliorare ancora più. A presto. Perciò. Poi. Perciò. Grazie a tutti.